Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina! Oggi sono qui per prepararvi una crema pasticcera che con pochissimi passaggi vi permetterà di farcire qualsiasi tipo di dolce. Allora vediamo subito come procedere. Metto 3 tuorli d'uovo in una pentola. Ora aggiungo 125 g di zucchero e 70 g di farina e un po' per volta il latte. Mescoliamo bene il tutto in modo da amalgamare il latte a tutti gli altri ingredienti. Imposto ad una potenza media il fuoco del mio piano a induzione e portiamo tutto ad ebollizione. Ora che la crema si è leggermente intiepidita vado ad aggiungere 4 gocce di olio essenziale di limone per aromatizzarla. Dopo qualche ora la mia crema pasticcera è pronta per essere utilizzata. Se volete possiamo alleggerirla con della panna fresca montata e abbinandola a delle fragole tagliate in pezzi può diventare un ottimo dolce da fine pasto. Bene, anche per oggi nella mia cucina abbiamo finito. E come al solito in conclusione di ogni video vi invito, se ancora non lo avete fatto, a cliccare sul tasto iscriviti e spuntate anche la campanellina per non perdervi le prossime ricette. Io vi saluto e vi aspetto molto presto. Ciao a tutti! Ciao a tutti!